ciao ragazzi come state eccomi qua questa volta in formato video perché come ben saprete non ci possiamo incontrare almeno ancora per un po di giorni sicuramente sarà così sono ormai più di due settimane che non non possiamo fare lezioni insieme che non ci vediamo e purtroppo questa situazione andrà avanti ancora per un po ho deciso di fare questo video perché volevo mantenere il contatto con voi e questo video è dedicato a voi come miei allievi tutti i bambini e ragazzi dei corsi pomeridiani ed è stato fatto da me e di seguito vedrete ci sarà un messaggio un video messaggio anche da parte di federico giulia e olivia in questo momento dato che non possiamo allenarci la cosa carina sarebbe di cercare di mantenere l'allenamento che abbiamo fatto fino adesso anche a casa magari nell'occasione in cui andrete al parco in qualsiasi altra situazione purtroppo non in palestra magari riuscirete a farmi avere o delle foto di voi che vi allenate altrimenti la cosa bella sarebbe dei micro video chiedete ai vostri genitori con il cellulare di fare un video di un mentre voi fate una tecnica di vovinam il bello è se vi mettete sul vofuc tutto per bene e fate vedere quello che in questo momento vi ricordate questo ci potrà aiutare insomma anche a riprendere nel momento in cui ci sarà concesso tornare in palestra anche perché noi ovviamente speriamo che questo possa avvenire il più velocemente possibile e quando torneremo torneremo ad allenarci come prima e a cercare di riprendere tutto quello che abbiamo lasciato indietro quindi mi raccomando ripassate un po di programma di vovinam anche mentre siete a casa fate i bravi ok non annoiatevi cercate sempre qualcosa da fare e qualsiasi cosa abbiate da chiedermi o avete se avete voglia di mandarmi una foto vostra anche dei disegni disegni che riguardano questo periodo la vostra pratica del vovinam noi saremmo ben felici di riceverli ok grazie ragazzi mi raccomando ciao ci vediamo presto ciao ciao ragazzi allora con un po di tecnologia e qualche effetto speciale siamo in un posto magico dove comunque il vovinam va avanti dove lo sport va avanti dove ci si allena si fanno le gare e non sappiamo un momento quando rientriamo in palestra ufficialmente ad allenarci regolarmente con i corsi degli adulti e dei bambini ma specialmente con i vostri corsi dei bambini perché ci piace allenare più giovani ci piace vedere gente nuova che cresce nel vovinam sin da piccoli come abbiamo fatto io olivia e giulia che adesso vi alleniamo e vi salutiamo allenatevi comunque a casa state in movimento che rientro dobbiamo preparare l'esame dobbiamo preparare un sacco di cose nuove e dobbiamo ripartire facendo il doppio quindi vedremo saremo cariche per questa nuova avventura post coronavirus mi raccomando studiate a casa fate bravi non fate impazzire i vostri genitori ci vediamo in palestra ciao ragazzi ciao ragazzi spero che vi stiate divertendo in questi giorni che non c'è la scuola purtroppo per fortuna spero di rivedervi tutti quanti presto anche se purtroppo non ci sarò sempre ai corsi del pomeriggio però sicuramente verrò a trovarvi spero abbiate tanta voglia di riniziare che noi vi aspettiamo in palestra un bacio ciao a tutti purtroppo in questo periodo non ci siamo allenando e quindi non ci vediamo ma vedrete che tra pochissimo torneremo tutti quanti in palestra voi mi raccomando continuate ad allenarvi a casa e a tenervi sempre belli carichi e in forze che appena torniamo si preparano gli esami un bacione a tutti grazie a tutti